Ben trovati al meteo. Un'intensa perturbazione atlantica metterà fine all'ondata di caldo africano a suon di forti temporali. Il dettaglio di domenica 23 agosto. Sul Veneto al mattino si manterrà sostanzialmente stabile e per lo più soleggiato. Dal pomeriggio cielo via via più nuvoloso, instabilità in aumento con piogge a partire dai monti e localmente verso le pianure. Come sempre accade quando i contrasti termici sono molto elevati i fenomeni potranno essere anche violenti e accompagnati da grandine. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi tra 28 e 32 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, poi più nubi, rovesci sulle Alpi a seguire anche sul resto della nostra regione. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 28 e 32 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige con precipitazioni anche abbondanti e forti, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 15 e 16 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.